pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati iniziamo insieme questo tempo di quaresima un tempo di grazia che la chiesa ci offre per ritornare a dio con tutto il cuore e uscire da una vita mediocre ridecidendoci per la santità e andando più in profondità nel rapporto con dio e nel dono di noi stessi entriamo in questo tempo che la chiesa vive nella forma attuale cioè questi 40 giorni in preparazione alla pasqua sin dal quarto secolo prima infatti la fede cristiana sappiamo che era perseguitata dall'impero romano essere cristiani costava comportava dunque uno stile di vita forte una scelta decisa pian pianino dopo l'editto di costantino dal 313 la fede si estese a macchia d'olio essendo religione lecita dell'impero ma così si annaquò facilmente molti si facevano battezzare diventavano cristiani ma tutt'altro erano che cristiani con la pratica di vita dunque la chiesa propose questo tempo per prepararsi a vivere con maggior intensità il tempo della pasqua centro di tutto l'anno liturgico in questo tempo siamo invitati a coltivare il rapporto con dio e con gli altri aiutati in particolare da tre opere preghiera digiuno ed elemosina il brano del vangelo secondo matteo tratto dal capitolo 6 ci dice anche lo spirito con il quale vivere queste tre opere io cercherò semplicemente di mettere in luce alcuni spunti per aiutarvi a vivere in modo significativo la quaresima quindi andrò molto sul concreto molto sul pratico partiamo dalla preghiera la preghiera sappiamo bene che è l'elevare l'anima dio elevare mente cuore lui e il dialogo intimo e profondo con il signore che avviene nel profondo del nostro cuore mettersi in preghiera non vuol dire sfornare una serie di formulette a memoria per chissà rendere contento quello lì lassù ma è una condizione uno stato di preghiera uno stato di dialogo di intimità con lui che è presente in noi mettersi in preghiera parte dal disporsi ad ascoltare il signore che parla nel nostro cuore un dio che ci ama profondamente ecco noi cristiani non crediamo in un dio spray ma in una persona viva concreta risorta che ci rende partecipi della sua vita che si rende presente in noi per mezzo dello spirito santo siamo inabitati dallo spirito santo abbiamo in noi lo spirito di dio la sua presenza dunque riscoprire la preghiera come dialogo intimo con dio come vivere in modo significativo la preghiera in quaresima io direi ognuno di noi cerchi di fare un passettino in più cosa vuol dire se io fino ad oggi mi sono limitato a un segno di croce versione scacciamosche e via giusto un pensierino al buon dio potrei magari soffermarmi a fare un segno di croce con calma mettermi alla presenza del signore magari dire alcune preghiere che sia anche un padre un ave un gloria magari iniziare a propormi di leggere e meditare il vangelo del giorno quindi la mattina ritagliarmi del tempo per le mie preghiere mattutine e per meditare la parola del buon dio del giorno se già lo facessi potrei per esempio intensificare il rapporto con la vergine maria che siano le tre ve maria al giorno come propongono i santi o la preghiera del rosario iniziare a scoprirla anche una decina al giorno se già lo facessi potrei per esempio leggere in più e meditare un brano della passione del signore ogni giorno e man mano andare da un vangelo all'altro oppure un altro testo biblico o ritagliarmi del tempo per leggere un testo di spiritualità oppure potrei propormi una maggior costanza con i sacramenti nella partecipazione più frequente all'eucaristia nella confessione vissuta con più profondità preparata meglio oppure se sono a maggior ragione un consacrato una consacrata mettere più cura nella preghiera della liturgia delle ore oppure fare qualche visita in più al santissimo sacramento insomma diciamo fare un passettino in più per dedicare qualcosa di più a dio per stare un po più con lui partendo da un fatto ve lo dico in modo molto semplice che il nostro signore è innamorato cotto di ognuno di noi dio ci ama in una maniera smisurata profonda intensissima più gli apriamo le porte del cuore più quest'amore ci pervade man mano ci trasforma e ci rende più capaci di amare gli altri secondo punto il digiuno sappiamo che durante la quaresima siamo chiamati a stenerci dalle carni il venerdì alla stensione dalla carne e il venerdì santo proprio a digiunare anche il mercoledì delle ceneri digiuno che consiste nel fare un pasto solo oppure digiunare a pane e acqua ovviamente sono esenti i bambini e gli anziani o coloro che per motivi di salute non possono ma diciamo questo digiunare innanzitutto è una cosa meravigliosa perché fortifica lo spirito rafforza la volontà diciamo rende anche più operative le facoltà mentali ed è un allenamento meraviglioso alla libertà inoltre aiuta a capire meglio i poveri e quella fame che viene avvertita ci può rimandare a colui che sazia una fame ben più profonda che quella del nostro cuore quindi sarebbe bello durante tempo di quaresima allenarsi al digiuno innanzitutto vivere i venerdì in modo più significativo appunto la stensione dalla carne ma sarebbe bello anche ad esempio proporsi di rinunciare ad un alimento che ci attira particolarmente magari ci rende anche prigionieri può essere il dolcetto può essere il caffè non so ognuno ci metta ciò a cui è più attaccato un'altra cosa bella sarebbe anche allenarsi a digiunare da tutte quelle cose che tendono a rimpinzarci la mente a stordirci anche un po ad esempio potremmo digiunare da un po di televisione potremmo digiunare da un po di connessione ad internet ad esempio tenere il cellulare connesso solo un tot di ore al giorno o staccarlo ad una certa ora allenarci a digiunare un po dal computer insomma allenarci a rinunciare a qualcosa per essere più presenti a noi stessi per donare magari un po del nostro tempo agli altri o per impiegarlo in maniera anche più costruttiva o più utile più profonda quindi allenarsi al digiuno a volte si dice e raccomandavano anche i padri di digiunare dal peccato questo di per sé dovrebbe essere una cosa che già facciamo cioè imparare a dire di no al male che ci fa male terzo e ultimo punto l'elemosina ecco la parola elemosina in greco indica una pienezza di carità il dono fatto non solo materialmente ma anche con il coinvolgimento affettivo sarebbe molto bello integrare tutte queste tre pratiche insieme per esempio dare in elemosina ciò a cui io ho rinunciato questo è uno splendido esercizio anche da proporre ai figli o da vivere in famiglia cioè non andare a comprare altre cose da donare si può anche fare bellissimo ma intanto donare ciò a cui noi abbiamo rinunciato ecco che allora il digiuno è finalizzato non a sentirsi meglio degli altri ma il digiuno vissuto nella preghiera ci aiuta a condividere con gli altri ad esempio possiamo anche vivere l'elemosina come dono di qualcosa in più del solito che può essere a livello di soldi o di beni materiali o di condivisione del cibo ma può essere anche il dare qualcosa di proprio a cui si è particolarmente affezionati come esercizio proprio di generosità può essere un vestito può essere un cd può essere gioiellino può essere una catenina una cosa che per me è molto importante ecco diventa un dono ancora più prezioso da poter fare con il quale significhiamo che cosa che più importante delle cose sono le persone e la relazione con gli altri e la comunione ancora potremmo vivere l'elemosina donando un po del nostro tempo agli altri ad esempio proporsi ogni settimana di ritagliarsi non so un'ora due ore un giorno particolare per dedicarlo alle visite e quindi andare a trovare degli anziani dei parenti delle persone che sappiamo essere sole o bisognose quindi allenarsi al dono di sé del tempo dei beni di noi stessi ed ecco dunque che tutte queste pratiche mi aiutano a vivere un rapporto più profondo con dio e con il mio prossimo per ultimo Gesù ci raccomanda quando pregate non fatevi ammirare dalla gente se no avreste già ricevuto la vostra ricompensa quando digiunate non vi sfigurate così che tutti vi vedano e vi elogino già avreste ricevuto la vostra ricompensa e quando fate la carità non suonate le trombe come gli ipocriti facendolo sapere a tutti così avreste già ricevuto dagli uomini la vostra ricompensa ma fate tutto nel segreto allora il padre vostro vi ricompenserà e la sua ricompensa e la sua presenza forte bella e gioiosa nel nostro cuore la presenza nel cuore di dio nei suoi figli che lo amano e cercano di vivere la loro vita come una risposta ad amore una risposta quell'amore infinito del quale sono ricolmati e che cercano di riversare sugli altri che dio vi benedica buona quaresima a tutti pace e bene